. Maurizio Costanzo fa i complimenti a Cecilia Rodriguez e lancia una frecciatina a Belen. Le ultime dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Belen e Cecilia Rodriguez. . Sono passati mesi, ma la vicenda dell'armadio di Cecilia e Ignazio al grande fratello Vip è ancora sulla bocca di tutti. . Ne continua a parlare pure Maurizio Costanzo, nella rubrica televisiva che tiene da anni sul settimanale Nuovo. . Interpellata da una lettrice, il giornalista ha rivelato che la sorella di Belen è stata brava a far parlare di sé, a mettersi in mostra e ad attirare lattenzione del pubblico. . . Le ultime parole del marito di Maria De Filippi sono una sorta di complimento nei confronti di Cecilia Rodriguez e implicitamente non manca una frecciatina a Belen, rea di essersi fatta rubare la scena dalla parente più piccola, approdata in Italia solo qualche anno fa. . . Costanzo torna a parlare della vicenda dell'armadio. . Belen e Cecilia sono due donne che hanno capito come far parlare di loro e alle quali piace mettersi in mostra, altrimenti non avrebbero scelto la carriera in tv ha scritto Maurizio Costanzo sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti. . Il conduttore del Maurizio Costanzo Show e l'intervista ha poi concluso con una frecciatina, sui talenti artistici di Cecilia non mi posso esprimere, non ho avuto modo di conoscerla così a fondo, che è da dire che è riuscita a togliere per un po' la scena a sua sorella. . Come prenderanno le sorelle Rodriguez tali affermazioni? Solo qualche settimana fa entrambe sono state ospite del salotto televisivo di Costanzo e non hanno risparmiato selfie e video con il presentatore. . . Maurizio Costanzo e le recenti parole su Belen. Non è la prima volta che Costanzo parla di Belen. Qualche mese fa Costanzo ha difeso l'Argentino dagli attacchi gratuiti del pubblico. . Il popolare volto televisivo ha fatto sapere che la Rodriguez non è interessata solo al gossip e ai suoi amori ma pure alla sua carriera che, in barba alle male lingue, è lunga e variegata. .